La mia esperienza con lo smart working è stata segnata dal fatto di avere un bambino molto piccolo. In questo periodo della vita i bambini hanno un'esigenza di attenzione molto alta e un livello di cura intenso. Tutti i permessi, tutte le agevolazioni sono venute meno, ma ovviamente in un periodo in cui tutte le scuole erano chiuse, ritrovare il tempo per lavorare e gestire un bambino di meno di un anno ha implicato uno sforzo sicuramente aggiuntivo. Questa cosa ci ha fatto toccare con mano cos'è la mancanza di un diritto. Per me è stata una grossa mancanza. E soprattutto la mia speranza, superato il momento emergenziale, è che certe situazioni vengano contemplate.